Ciao Aikas, buongiorno! Vi dico già che se vedete questo video è perché sono davvero effettivamente in partenza per i Pirenei. Chi mi segue già dall'anno scorso sa che avevo il piano di partire per i Pirenei già appunto l'estate scorsa, però a tre giorni dal volo avevo la febbre, quindi non sono potuto partire. Devo ammettere che col senno di poi probabilmente è stato meglio così perché non ero particolarmente motivato e partire per una true hike di 800-900 km senza troppa motivazione non è sicuramente partire con il piede giusto. Quest'anno invece sono carichissimo, sono motivatissimo e la cosa che aggiunge un sacco, veramente un sacco di motivazione è il fatto che non partirò da solo ma partirò col mitico Francesco Ecobi. Ecobi? Ecobi? Scusa Fra, non me lo ricordo la pronuncia corretta. Ad ogni modo il piano appunto è di partire insieme. Francesco quest'anno ha fatto una marea di uscite da solo anche, ha anche completato la traslagorai in solitaria e voglio dire ha 17 anni Francesco, quindi tanto tanto di cappello. Se penso a come ero io a 17 anni è meglio che non ci pensi. Quindi lunedì avremo il volo per Vittoria che è in Spagna, purtroppo ho fatto un sacco di ricerche e volevo andare in treno per ridurre il più possibile quello che è le emissioni di CO2, però il treno alla fine aveva prezzi spropositati e ci metteva comunque tipo 20 ore, 24 ore. Quindi alla fine prenderemo l'aereo che ci porterà a Vittoria, che è in Spagna, circa a sud di Bilbao. A Vittoria faremo il pieno di cibo per la prima sezione di tre giorni circa. Passeremo lì una notte, la mattina dopo prenderemo il treno per Irún, che non so come si pronuncia. Da Irún cammineremo fino a Endaie, che non so come si pronuncia. Toccheremo il mare, anzi l'oceano atlantico e da lì partirà ufficialmente il nostro tentativo di traversata sui Pirenei. Per quanto riguarda il sentiero scelto, cercheremo di stare il più possibile sull'HRP, che è il sentiero che sta più in alto rispetto al crinale dei Pirenei. Essenzialmente ci sono tre grossi sentieri che attraversano i Pirenei dall'Atlantico al Mediterraneo e sono GR10, che è un po' il più famoso e frequentato sul versante francese, GR11 sul versante spagnolo e l'HRP, che appunto è il centrale, che sta per più tempo sulle creste e scende più raramente in valle. Cercheremo appunto di stare fedeli all'HRP, ma non sarà un dogma, no? Se ci saranno delle sezioni che vorremmo fare su GR10, su GR11 o su altri sentieri, andrà bene lo stesso, improvviseremo, lasceremo un po' al caso il controllo del nostro cammino. Sono gasato e anche un po' emozionato e teso, perché è veramente tanto tempo che non faccio un trekking così lungo e spero di essere in forma fisica sufficiente e di avere la motivazione sufficiente per andare dall'Atlantico al Mediterraneo. L'idea per il momento è quella di tenervi aggiornati, se ci riesco, con un video ogni tanto, proprio editato dal sentiero, attraverso il telefono. E poi mi piacerebbe fare anche un paio di dirette su Instagram, proprio sul percorso. Spero di riuscire a fare entrambe le cose, ovviamente non posso saperlo con certezza adesso, perché sul sentiero i punti fermi, i punti fici, le sicurezze praticamente non esistono, però ecco, questa è l'intenzione e ci proverò. Non mi resta che salutarvi e sperare che il prossimo video che uscirà sarà proprio un video dai Pirenei. Ciao hikers, alla prossima!